Lascia like e iscriviti al canale, non te ne pentirai. Ecco il nuovo Community Manager. Ciao ragazzi sono Ninja Hyper e oggi vi farò vedere ufficialmente il nuovo Community Manager che sarà al posto di Ryan, perché si, Ryan ha avuto una buona emozione in pratica e quindi non è più destinato a fare i Brawl Talk, ma è stato assunto nei Community Lead. Ma prima di farvi vedere il nuovo Community Manager e ora devo dirvi una cosa che credo che nessuno sa di questa cosa. Ogni Community Manager è rappresentato come un Brawler, in questo caso Ryan come Edgar, Danny come Piper e Frank come Colt. E il nuovo Community Manager è un Brawler? Ora lo scopriremo, buona visione. Buongiorno! Grazie! Paola, il nuovo Community Manager rappresentato come Brawler, Jesse. Ma in tutto qua, questo, cosa ha finna fatto Ryan? Poveretto, non è una bella fine. Like, iscrizione e campanella al prossimo video. Ciao!